Allora qual è la prossima città che devo distruggere? In Portogallo! È successo come ad Haiti! Un grosso terremoto! Migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto! Non può essere! Nessuno può scatenare un terremoto! Ma una persona che maneggia i manufatti dei precursori, sì invece! Hai visto la scatola, Hope? Il tempo era pervaso di quel potere immenso! Tu mi hai fatto uccidere degli innocenti! Come osi? Lo difendi! Achille mi ha mandato là come Makhanda l'ha mandato il suo uomo ad Haiti! Ma che diavolo sta succedendo? Basta! L'operazione era delicata, forse tu... Stai scuotendo la terra stessa! Chi sei tu per decidere quale città dovrà accadere? Portatelo fuori di qui! Liam si illude se pensa che lascerò stare Non ci si può affidare di Achille Non deve trovare altri templi dei precursori Non mi importa se è un mentore O se la sua famiglia è morta Non possono esserci scuse per questa follia Non dovrò fare che la scettola C'è solo una cosa da fare C'è solo un po' Un po' Non si torna più indietro Speravo tanto in te, Shea C'è solo un po' È nostra responsabilità Noi siamo responsabili Della morte di innocenti e del crollo di città Questa folle brama di potere Finisce qui Non ti lascerò distruggere ciò che ho costruito Assassini Fermatelo Fermate Shea Fermatela 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 Oh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.